Buon pomeriggio e benvenuti a Prospettive Buon pomeriggio e benvenuti a Prospettive E soprattutto che non ci identifica mai con il male commesso Ma vuole liberarci da quelle catene Dio vuole, ha aggiunto Papa Francesco, che la nostra libertà si converta dal male al bene E questo è possibile con la sua grazia Ascoltiamo ora un breve strato delle parole del Pontefice Cari fratelli e sorelle Quella donna rappresenta tutti noi Cioè adulteri davanti a Dio Traditori della sua fedeltà E la sua esperienza Representa la volontà di Dio per ognuno di noi Non la nostra condanna ma la nostra salvezza Attraverso Gesù Lui È la grazia che salva dal peccato e dalla morte Nella messa di questa mattina a casa Santa Marta Il Papa ha spiegato che guardando il crocifisso possiamo capire il mistero di Dio Che si è totalmente svuotato della sua divinità per salvarci Il Pontefice ha proseguito sottolineando come il serpente sia il simbolo del peccato Il serpente che uccide ma un serpente che salva E questo è il mistero del Cristo Paolo parlando di questo mistero dice che Gesù svuotò se stesso Umigliò se stesso e si annientò per salvarci Le parole del Papa Il peccato è l'opera di Satana E Gesù vince Satana Facendosi peccato e di là Innalza tutti noi Il crocifisso non è un'ornamentazione Non è un'opera d'arte Con tante pietre preziose Come si vedono Il crocifisso è il mistero Dell'annientamento di Dio Per amore E quel serpente che Profetizza nel deserto la salvezza Innalzato E chiunque lo guarda viene guarito Non è stato affatto Con la bacchetta magica Di un Dio Che fa le cose Nel concistoro ordinario pubblico di oggi Papa Francesco ha firmato il decreto Per la canonizzazione di cinque beati Madre Teresa di Calcutta Sarà santa domenica 4 settembre 2016 Ascoltiamo il servizio dal CTV Di Giada Aquilino Nel pieno del giubileo della misericordia Madre Teresa di Calcutta Diventerà santa La cerimonia di canonizzazione Si terrà domenica 4 settembre Papa Francesco ha infatti firmato Durante il concistoro ordinario pubblico Il decreto per la canonizzazione Di cinque beati Diventeranno santi anche Giuseppe Sanchez del Rio Martire a 14 anni in Messico Nel 1929 Il sacerdote polacco Stanislau Di Gesù Maria José Gabriel del Rosario Brocero Figura di sacerdote molto popolare In Argentina E a cui è profondamente devoto Il pontefice E la religiosa Maria Elisabetta Asselblad Fondatrice delle Brigidine È tutto per oggi Grazie per la cortese attenzione Buon proseguimento con i nostri programmi Ed appuntamento a giovedì Buon proseguimento con i nostri programmi